Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, il nostro salotto televisivo con ospiti in diretta. Al momento sono ancora solo perché ancora non ho introdotto il primo ospite della giornata perché come sempre la nostra puntata inizia dando i contatti 351 708 9977 casarossini, chiocciolarossintv.it se volete mettervi in contatto con noi o con qualcuno dei nostri ospiti approfittando proprio del fatto che appunto siamo in diretta e comunque anche se volete mandarci materiale, immagini, segnalazioni, commenti, frasi, quello che preferite che magari può essere utile per essere mandato in onda in una delle prossime puntate. Insomma è un canale, un canale diretto con i nostri telespettatori. Come sempre apriamo la puntata di Casa Rossini dando un'occhiata a quelle che sono le caratteristiche del giorno. Oggi mercoledì 14 aprile, 104esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 261 giorni alla fine dell'anno, faccio sempre questo conto alla rovescia, non so neanche perché lo faccio ma è divertente così me lo ritrovo sotto. Oggi secondo Personology è il giorno della tradizione, la domanda per il sondaggio del giorno è una vera e propria domanda a cui rispondere col sì o col no ed è siete scaramantici, sì o no? Come succede da qualche giorno e da qualche puntata? Le domande vengono anticipate, i nostri sondaggi vengono anticipati attraverso i social qualche ora prima della messa in onda per cui già ci sono dei risultati ma andate a vedere e influenzate questi risultati a seconda appunto che siate scaramantici oppure no, non vi dico se io lo sono. Giornata oggi dedicata all'alfabeto Nko, N apostrofato K O, che è l'alfabeto ideato dalla scrittore guineano Solomana Cante nel 1949 come sistema di scrittura per le lingue mandè dell'Africa occidentale. Nko significa infatti io dico in tutte le lingue mandè. La lingua mandè, detta anche mandè o manden, è in realtà una famiglia di lingue parlate in diversi paesi dell'Africa occidentale, tra cui Gambia, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Guinea, Bissau, Mali e Senegal. L'introduzione di questa lingua ha dato vita a un movimento teso a promuovere l'alfabetizzazione tanto tra i popoli francofoni che anglofoni dell'Africa occidentale. È stata fondamentale nel rinforzare l'identità mandè in Guinea e in tante altre parti dell'Africa occidentale. La Chiesa Cattolica celebra i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, tutti e tre insieme, martiri di Roma vissuti nel III secolo, sono ricordati da antiche fonti appunto sin dal V secolo e insomma li vedete effigiati in alcuni quadri, in alcuni dipinti. L'evento che abbiamo scelto per ricordare questo 14 aprile è 1912, Oceano Atlantico, è la partenza inaugurale del transatlantico Titanic che tutti conosciamo, parte appunto il 14 aprile, affonderà nelle prime ore del 15 aprile del suo viaggio inaugurale. Di solito noi quando diamo queste indicazioni non ci occupiamo di tragedie o di cose di questo genere, ma questa volta lo facciamo perché la tragica storia del Titanic comunque è entrata nella storia, la conosciamo tutti soprattutto grazie a tanti racconti, a tante cose, canzoni e soprattutto grazie al film di James Cameron del 97, 14 candidature, 11 Oscar. Era il secondo di un trio di transatlantici, il Titanic insieme all'Olympical Britannic, progettato per offrire un collegamento settimanale di linea con l'America e garantire il dominio delle rotte oceaniche della White Star Line, costruito a Belfast, rappresentava la massima espressione della tecnologia navale del tempo ed era il più grande e lussuoso transatlantico del mondo. Durante questo viaggio inaugurale è entrato in collisione con un iceberg di cui abbiamo incredibilmente una fotografia, perché eccola questa, pare che sia proprio quella originale, in un primo momento giravo un'altra foto ma poi è stata trovata questa, appunto domenica 14 aprile 1912, in due ore e venti il Titanic è affondato. Il pensiero del giorno, e sul pensiero del giorno io mi preparo a indossare la mia mascherina, se vi è qualche speranza per il mondo, e se affidata soltanto ai piccoli atti di gentilezza dei singoli, e uno degli atti di gentilezza che noi facciamo è quello di indossare la mascherina. Eccoci qua, perché da qualche puntata abbiamo pensato che indossare la mascherina fosse un segnale da dare ai nostri telespettatori sull'importanza di continuare ancora a provare a limitare gli effetti di questo contagio in parallelo con la vaccinazione, speriamo che tutto questo ci porti fuori da questo tunnel. E a questo punto diamo con entusiasmo il benvenuto al primo ospite mascherato anche lui, ma lo riconoscerete certamente, Roberto Bartolini. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Guarda che ti abbiamo riconosciuto e ti hanno riconosciuto anche tutti i nostri spettatori. E sì, per esempio Zorro, però. Sì, un pochino, Zorro che ha sbagliato il posto dove mettere la mascherina. Perché dico lo riconosciamo? Perché è alla terza presenza qui a Casa Rossini. Era partito tutto come un'ospitata come le altre. Poi ci siamo entusiasmati a questa tua, io non so come chiamarla, arte, può darsi. Perché alla fine... Allora, bisogna sempre essere un po' artisti, no? Nel momento in cui si affrontano tematiche che riguardano l'umano. Ma artista nel senso che si è in continua costruzione. La grafologia infatti è una scienza che nel momento in cui va ad osservare lo scritto di una persona costruisce tutte le indicazioni che la riguardano. Esatto. E oggi vi volevo presentare una delle categorie fondamentali secondo la grafologia morettiana che è la categoria del curva angolosa. Curva angolosa se magari riusciamo a mettere... Adesso la regia la manda, però volevo solo fare un piccolissimo cappello per presentarti meglio a chi non avesse... Io sono convinto che noi abbiamo dei seguaci che hanno seguito tutte le 49 puntate che abbiamo fatto. Però se qualcuno se ne fosse persa qualcuna è opportuno ricordare appunto che noi abbiamo avuto Roberto in trasmissione e ci ha appassionato alla grafologia come appunto, abbiamo detto un attimo fa, quasi una forma d'arte, ma è molto scientifica come arte. Per cui abbiamo detto perché non provare a far capire comunque che cosa c'è dietro una indagine grafologica. Tu sei l'autore di questo libro che hai portato molto poderoso, diciamo, e molto interessante, l'assessment grafologico, che poi sono andato a vedere vuol dire l'indagine, non l'assessment? Sì, è valutazione. Valutazione, valutazione, che è diventato un po' una pietra miliare anche per tanti tuoi colleghi, questo volume, questo libro, e l'idea che noi ci siamo fatti e che stiamo cercando di proporre ai nostri telespettatori è proprio questa. Nel guardare uno scritto c'è tanto per chi capisce, però non è una scienza misteriosa, non è l'astrologia più lontana. Uno guarda, dice, boh, si rinchiude nel suo io e esce col risponso. Ci sono delle regole. E allora queste regole un pochino proviamo a svelarle, se non altro per dare un'indicazione di massima di qual è il lavoro di indagine. Ecco, questo è un po' il motivo per cui abbiamo pensato di riaverti con noi e di invitare un po' di telespettatori a mandarci i loro scritti. Te li abbiamo girati e hai scelti alcuni particolarmente significativi per quello che andiamo a raccontare e stamattina lo raccontiamo. Bene. Sì, allora, come dicevo, volevo presentare la categoria curva angolosa che è una delle categorie fondamentali della grafologia morettiana. E curva angolosa ha a che fare con la forma, la rotondità o meno delle lettere, degli ovali. E quindi consideriamo tutte le A, le O e derivate, quindi il tondo della D e quant'altro della G. E curva angolosa anche in termini simbolici, se noi ce le immaginiamo, tutto ciò che ha a che fare con il tondo o rotondo, in definitiva, nel momento in cui trova un ostacolo, si adatta. La questione è un po' diversa quando hai vertici inferiori e superiori. Vertici inferiore è quello che si produce nel momento in cui il segno arriva sul rigo di base. Ok? Il rigo di base è che anche qua, secondo l'aspetto simbolico sempre della grafologia, rappresenta il momento del reale, cioè il momento in cui io incontro la realtà con cui devo in qualche modo interagire. Ecco, a seconda dello storico, della storia della persona, questo impatto rispetto alla realtà può essere più o meno sereno. Ecco allora che se l'impatto è sereno e quindi significa che io ho avuto un vissuto tutto sommato tranquillo, chiaramente il movimento è fluido e man a mano si adatta alla realtà. Qualora invece le mie esperienze precedenti con l'incontro con la realtà siano state particolarmente intense, siano state particolarmente forti da un punto di vista emotivo, allora che succede? Come tutte le volte in cui mi trovo davanti ad un ostacolo oppure ad un pericolo, mi fermo. E nel momento in cui mi fermo viene meno questa fluidità, questa continuità del gesto e si produce l'angolo perché nel momento in cui riparto, chiaramente, si nota da un punto di vista grafomotorio che c'è stato uno stop. Ora, l'immagine ci dice appunto che fondamentalmente da una parte abbiamo curva, dieci decimi di curva perché la grafologia morettiana ha questa peculiarità che per arrivare sempre di più allo specifico dell'individuo misura in questo caso a seconda dell'apertura coniometrica dell'angolo che si produce o alla base oppure nel vertice superiore, in decimi. Tutti i segni sono misurati in decimi. Allora vedete che all'estrema sinistra noi abbiamo il segno curva dieci decimi che a mano a mano che si sposta verso destra troviamo proprio il minimo della curva di unità e il massimo dell'angolosità. E andiamo verso l'angolosa. È chiaro che all'interno della produzione degli ovali tendenzialmente noi mettiamo in campo, cioè questa forma sarà più o meno rotonda a seconda dei due estinti innati, cioè quello di espansione e quello di conservazione. Chiaramente il curva è il massimo dell'espansione, mentre l'angolosità è il massimo della conservazione. È come se appunto queste due forze a seconda di quella che è la mia storia in qualche modo tendessero ad essere più, a rendere le forme più verticalizzate oppure più rotonde oppure più orizzontali. Perché a volte, non so se magari avrete modo di farci caso adesso che ve lo dico, a volte capita che in alcune scritture i cerchi rotondi siano schiacciati ai vertici, cioè pur rimanendo rotonde, ma fa questa rotondità dove la parte orizzontale è maggiore di quella verticale. Un po' come la terra. Un po' come... Beh, la terra è proprio rotonda, no? No, è schiacciata ai poli. Un po' schiacciata ai poli. Va bene. Quindi, chiaramente questo ci dice, ci dà informazioni sulla capacità di adattamento della persona e questa capacità di adattamento ha a che fare un po' anche con quella che era stata formulata da Jean Piaget con l'epistemologia genetica che appunto attraverso l'osservazione dei suoi tre figli postulò tutta una serie di fasi, di tappe nello sviluppo dell'intelligenza perché il problema che si era posto era ma qual è l'aspetto che ci consente di apprendere. E allora da qua appunto attraverso questa osservazione di quei tre poveri figli che li osservò per tutte le fasi, dalla nascita fino a sopra l'adolescenza, capì che appunto noi siamo soggetti a tutta una serie di fasi e a seconda della nostra capacità di adattamento riusciamo a trovare anche delle formule più o meno funzionali che ci consentono di affrontare la realtà. Naturalmente si parte, io traduco ogni tanto per qualcuno a casa, si parte da questi elementi, questo è uno ma ce ne sono tanti altri, però la bravura poi di chi è, abile a fare un'indagine completa è quella di mescolare tra loro, o meglio di collegare tra loro tutti i dati che arrivano dai vari elementi e di arrivare a una sorta di definizione di risponso, ma in realtà a una foto quasi, a una descrizione completa. Allora la foto è statica e bidimensionale, no? In realtà la grafologia consente proprio di fare una radiografia, quindi di andare in tridimensione, un po' come è anche l'espressione del segno grafico, no? Noi abbiamo tre dimensioni, che è la profondità, che è data dalla pressione, la larghezza, ma anche il tipo di altezza dell'energia. E a seconda di come viene convogliata questa energia, convogliata e quindi anche, come dire, elaborata dai tre centri cerebrali, no? Noi parlavamo del centro spinomidollare, che è quello che ha a che fare con la difesa, poi il secondo cervello, quell'emotivo, che è quello appunto delle emozioni, dell'ipotalamico, e poi della corteccia, che è il cervello più evoluto, che ci consente proprio di veicolare tutte le funzioni più significative della persona. Ecco, attraverso curva angolosa, ad esempio, è stato possibile rilevare che si notano due funzioni, soprattutto nella produzione dell'angolo A, c'è una correlazione molto stretta con l'amigdala. L'amigdala che è appunto quella struttura del limbico, che ci consente proprio di creare, memorizzare gli eventi particolarmente significativi da un punto di vista emotivo. Infatti viene spesso assuggiata la paura, no? E qui ci sono state tante ricerche che hanno poi, insomma, la storia è abbastanza complessa. Però ha a che fare con la paura. Tutte le volte che io magari sento un profumo, un odore, che mi automaticamente mi riaccendono la memoria, collegandola ad un evento particolare che può essere stato più o meno scabroso, allora non so perché mi viene l'agitazione. Ecco, questo è l'angolo A. L'angolo A che si produce proprio sulla base, sul rigo di base, che rappresenta, come dicevo prima, il mondo della realtà. È come se io entrando in una stanza ci entro in maniera serena, oppure prima di entrare proprio sulla porta mi fermo per osservare perché devo tenere tutto sotto controllo. Certo, certo. Ecco, il livello dell'angolo che si produce sul rigo di base ha a che fare proprio con questo aspetto, cioè ha a che fare con il mio essere ed esserci all'interno di una situazione che sarà più o meno aperto, disponibile, a seconda di quella che è stata la mia storia e quindi a seconda di quanto si attiva questa amigdala. Ora però che succede? Che una volta che io arrivo sul piano di realtà, prendo l'informazione, per compiere tutto il giro, riportarlo a livello cosciente, devo andare, devo concludere il gesto, che rappresenta proprio l'informazione completa, producendo l'angolo B. L'angolo B ha a che fare con l'area del cingolato, che è un po' quella struttura che veicola la motivazione, veicola l'azione e tante altre cose. Quindi, andiamo sul concreto adesso. E andiamo a vedere. Questa volta, rispetto alle scritture che mi avete inviato, ho individuato tre scritture che possono essere particolarmente significative di questi segni del curva angolosa. Curva angolosa, allora vediamo la prima scrittura che è indubbiamente curva. Sono i tre che hai scelto per analizzarli oggi. Sì, ne sono arrivate, me ne avete mandate in gran quantità. Certo, li vediamo uno alla volta. Allora, cominciamo a vedere questo. Questo è il primo. Oh, questo è il primo. E come non occorre essere il grafologi per vedere che effettivamente le forme di questo pizzetto, perché poi era un bigliettino piccolo, siano piuttosto tonde, no? Ce ne sono alcune che sono quasi dei cerchi perfetti. Ecco, se noi vediamo, ad esempio, in terza riga, fresco, la O di fresco, un continuo fresco nell'aria. Fresco. Vedete che qui si produce proprio quella forma più schiacciata. Sì, sì. Ecco, e questo ci dice che cosa? Che prevalendo l'aspetto più orizzontale della lettera e quindi venendo, come dire, venendo enfatizzata la parte sociale della persona, ecco, questa è una ragazza che indubbiamente ha la necessità di risultare, come dire, adattabile, di risultare particolarmente accogliente. Tuttavia, se noi vediamo la M di ramo in prima riga, che è cerchiata, possiamo notare che in realtà degli angoli ci sono. Fortunatamente per lei. Perché? Perché una scrittura così curva, come tutti i segni portati all'eccesso, chiaramente diventa disfunzionale, perché è un po' come una palla che rotola, a seconda dell'ostacolo che trova, non oppone resistenza, si adatta, ma perde la traiettoria verso il suo obiettivo. Ecco, questi angoli che noi vediamo nelle altre forme, nelle altre lettere, ci fanno capire che tutto sommato è meno sprovveduta di quanto si sia portati a pensare in un primo momento, perché poi quando si deve difendere, ci prova. Un altro aspetto singolare è la parola un soffio, soffio. E quello che mi ha incuriosito sono proprio le due F, le due lettere F. Vedete che la prima tende ad andare leggermente più verso il basso, la seconda, praticamente, la spinta verso il vettore basso scompare completamente. Ora, il vettore basso ha a che fare con il mondo dei bisogni, con il mondo degli istinti, con il mondo dell'inconscio. È chiaro che io riuscirò a prendere coscienza e consapevolezza e a capire quello che voglio se mi concedo la possibilità di entrare all'interno di questa dimensione. Ora, lei proprio ci entra in punta di piedi, ma subito ne viene fuori. quindi il rischio di questa di questa donna di 24 anni può essere che non contattando la propria parte istintuale probabilmente non riesce neanche ben a direzionare la propria azione rispetto agli obiettivi che vorrebbe raggiungere. allora sarebbe il caso qua ad esempio sarebbe auspicabile e suggeribile suggerirei proprio di cercare di indagare ancora meglio quelli che sono i suoi bisogni perché da un lato la scrittura si proietta tutta nella parte centrale e quindi questo approccio pragmatico dall'altra parte però c'è questa rotondità che dà un po' questa ingenuità che mista però ad una pressione piuttosto marcata ci dice che c'è anche l'orgoglio e l'orgoglio non sempre aiuta come dire il contatto con quella che è magari una dimensione realmente più disponibile più sociale anche ad accogliere le idee degli altri e quant'altro bene direi che già abbiamo fatto capire come ci si può impostare come si può impostare e volevo un'ultima cosa questo c'era il vero? sì sì c'è il poi dobbiamo andare abbastanza perché come sempre ok allora andiamo andiamo cioè quello che volevo dire è che non mancano momenti di ansia dato proprio da alcune forme di lettere addossate però lo vediamo anche sì perché quello che stiamo cercando di far capire è non tanto l'indagine comunque grafologica sul singolo che si riconoscerà o non si riconoscerà da casa se ci sta guardando così è difficile che si riconosca esatto a meno che non vede dei tratti magari vengono fuori però ripeto che per fare un'analisi grafologica bisogna lasciarsi catturare dalla scrittura ci vuole tempo e noi abbiamo questo obiettivo qua incuriosirvi e invogliarvi ad approfondire questo tema importante magari andando a trovare Roberto ai recapiti di cui parliamo poi alla fine sì seconda seconda immagine vediamo questa seconda immagine uomo 33 anni e questa è una scrittura che si posiziona in una via intermedia guardando gli ovali nel senso che noi abbiamo come dire un andamento abbastanza curvelineo ma la come dire la strutturazione proprio del testo grafico evidenzia tutta una serie di segni che in realtà la fanno rientrare più nel concetto di angolosa che non di curva questa scrittura quindi ci sono tutta una serie di diverse contorsioni no e quello che colpisce è che è come se questa scrittura fosse stata scritta da una persona tormentata in qualche modo si intervallano lettere molto alte a lettere molto piccole questo segno si chiama disuguale non metodico ossia ci sono proprio questi sbalzi no di calibro che oltre a rindicarci il fatto che ci sono anche sbalzi di autopercezione più sicurezza voglio spaccare il mondo a momenti magari di perdita di fiducia ma dall'altra parte ci parlano anche di una persona estremamente creativa perché viene fuori dall'ordinario normalmente quando ci manteniamo sempre sulla stessa altezza significa che io sono cosciente consapevole ma in qualche modo so chi sono in maniera definita qua siccome proprio questa alternanza no sono in un modo sono in un altro ci dice anche che è una persona che cerca in qualche modo e questo suo cercare è viene vissuto con una grossa intensità perché dall'altra parte viene fuori un'emotività molto spiccata e questo lo vediamo appunto nell'alternanza di queste lettere piuttosto alte di calibro rispetto piuttosto basse poi ci sono anche tante aperture a capo allora se noi guardiamo la O di propongo ecco vedete che la O non chiude per niente il vertice superiore e prima abbiamo detto che un aspetto molto interessante della categoria curva angolosa è che una volta che io prendo l'informazione con l'angolo A la devo riportare a me stesso e questo mi dà la tenacia perché per riportare l'informazione a me stesso ci vuole tenacia perché appunto concludo un ciclo produttivo ecco in questo caso questa tenacia rischia di mancare un po' ma allo stesso tempo per tornare al concetto di prima questa creatività che cosa possiamo vedere possiamo vedere che mancando la chiusura sopra io mi rendo particolarmente recettivo agli stimoli esterni ora Moretti qua parlava di intenerimento sessuale cioè tanto che non dimentichiamo che Moretti era un prete frate e diceva che se questo segno fosse presente all'interno di una scrittura di una femmina significava che era una donna da costumi piuttosto facili quindi intenerimento sessuale in questo senso se la prendiamo da un punto di vista psicoanalitico possiamo dire che questa ricerca dell'oggetto questo lasciarsi attraversare dall'oggetto in realtà non è semplicemente con una donna in questo caso visto che parliamo con un uomo ma anche se fosse stato un uomo questo non è importante quanto invece la capacità di lasciarsi come dire riempire da tutti gli oggetti del mondo e questo può da un lato dare questa grossa nota artistica ma dall'altra parte renderlo un attimo un attimo così come dire sempre un po' sofferente è proprio questo andamento questo andamento contorsionato mi viene da dire dunque quanto tempo abbiamo? pochissimo abbiamo tre minuti e tra l'altro Barbara Calistri ti fa i complimenti di saluta in diretta grazie grazie sei molto carina bene io direi di andare con l'ultimo perché poi avevo una piccolissima domanda andiamo 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 con l'ultimo e qui abbiamo due componenti tra le varie molto interessanti abbiamo un calibro alto con delle delle forme molto angolose alcune per esempio quelle delle chiamate a denti di pescecane che chiaramente no l'etichetta data a questo segno ci dà bene l'idea di quella che è una modalità anche di relazionarsi di questa persona quello che colpisce è la sua forza realizzativa ed è questo pensiero basato per contrasti quasi meccanicistico da un certo punto di vista quindi deve essere tutto molto schematizzato all'interno di strutture ben definite chiare e quindi un pensiero ingegneristico direi con questa esuberanza data dal calibro alto che a differenza per esempio della figura della scrittura precedente che aveva un calibro piccolo già quello ti porta un po' più verso il contenimento dell'energia quindi un maggior lavoro sull'interiorità ecco qua diciamo che c'è invece un maggior lavoro sulla comprensione dei meccanismi ora il calibro alto tendenzialmente fa un po' più fatica rispetto al calibro piccolo a fermarsi nei particolari questo lo fa in un altro modo attraverso il controllo cioè tutto deve riportare no? come su un tutto nonostante sia stato noto l'unico che ha usato un foglio bianco non ha usato i quadretti però lui i quadretti ce li ha in testa insomma sì i quadretti ce li ha in testa cioè ha assolutamente una bella energia piuttosto dirompente ecco il fatto che tutte le lettere o quasi tutte le lettere sono staccate l'una dall'altra ci dice che questo controllo è esercitato e quindi questa verifica attraverso il segno staccata segno staccata quindi no? un pensiero più come dicevo prima ingegneristico per quello che riguarda altrimenti l'angolosità questa diventa angolosa è vero che le lettere in questo caso a differenza della prima dove avevamo trovato il curva schiacciato qua sono più verticalizzate quindi questo senso di autoconservazione di difesa dell'io è indubbiamente preponderante rispetto ad una socialità che forse rimane un po' dietro ecco mettiamola così bene e qui come sempre ci sarebbe da dire chissà quanto ma il tempo corre ti faccio solo una domanda a cui però mi dà una risposta brevissima quanto ci si impiega quanto ci impieghi a fare un'indagine soprattutto la domanda è bastano veramente dieci righe per darti la possibilità di fare un'indagine approfondita e la seconda è quanto tempo ci vuole per sviluppare poi tutto quello che devi questa è una bella domanda allora dieci righe non sono mai sufficienti ma sono sufficienti quindi non so se ho risposto risposto perfettamente ecco chiarissimo quanto tempo ci impiego e dipende le variabili sono tante ci posso impiegare una giornata come magari non era un volere entrare nel tuo lavoro era un capire magari mi ci può volere una settimana perché dipende dalla complessità della scrittura e da quanto mi richiede da quanto mi rispecchia perché noi entriamo in contatto con le scritture quindi non è che occorra essere grafologi per sentire percepire le sensazioni che comunica una scrittura perché nel momento in cui noi le osserviamo i neuroni specchio si attivano e automaticamente ci ricreano quella condizione emotiva della persona che ha scritto quindi dipende anche quanto devo attuare dei correttivi sulla mia problematica che mi rispecchia la scrittura che sto osservando quindi è un continuo colloquio bisogna lasciarsi proprio trasportare coinvolgere completamente per poi prendere le distanze è un lavoro interessantissimo sono affascinato sono veramente affascinato spero che questa fascinazione colga anche i nostri telespettatori perché chiaramente è evidente che bisogna che ci rivediamo magari addirittura riducendo ancora addirittura a due forse perché già con tre ci accorgiamo che siamo di corsa e sicuramente avevi cento cose da dire e non siamo riusciti a dire neanche cinque è un'assenza molto appassionante molto 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 e devo dire che ringrazio anche le telespettatrici e telespettatori perché ho avuto tante attestazioni e di questo vi ringrazio veramente tanto e poi mi piace questa cosa che riusciamo a coinvolgere a dare anche il lustro che merita questa scienza che ancora deve essere conosciuta fino in fondo bene se la volete conoscere ancora di più continuate a seguirci perché noi ospiteremo ancora una volta sicuramente prima della chiusura della pausa estiva Roberto Bertolini mandateci i vostri messaggi scritti a mano rigorosamente se lo volete cercare lo trovate al suo studio counseling grafologico in Viale Cialdini 11 a Pesero lo ricordiamo tra le altre cose magari mi trovate anche nei social perché non ho la targa io ho lo studio all'interno lo studio di avvocato di mia moglie non ho messo la targa la targa in realtà tendo più a nascondermi che all'esporno per cui mi trovate nei social esatto ti trovate attraverso i social ti contattano e poi dopo ti mettete d'accordo va bene Roberto niente è stato breve ma intenso grazie ancora come sempre qui il tempo vola in una maniera incredibile grazie ancora ci vediamo prossimamente appunto adesso Allegra prenderà subito nota di quando potrà essere un prossimo incontro che sarà quello che poi concluderà questo primo ciclo prima dell'estate e noi adesso andiamo in pubblicità restate con noi perché andremo subito dopo con il secondo ospite della giornata non l'ho annunciato prima ma l'annuncio adesso Franco Signoretti patron di Xanitalia e tanto altro come scopriremo dopo quando lo conosceremo meglio restate con noi ed eccoci allora siete restati tutti lì e avete fatto benissimo perché siamo con il secondo ospite della nostra giornata con Franco Signoretti buongiorno Franco buongiorno buongiorno a tutti allora Franco Signoretti l'abbiamo annunciato il patron di Xanitalia è colui che nell'84 giusto? 84 sì ormai sono 38 anni non sono due giorni però sono anni nei quali si è lavorato bene perché Xanitalia è non solo una delle aziende più importanti del territorio ma è un'azienda rilevante a livello mondiale nel suo settore giusto? sì diciamo che oggi lo siamo sono partito nell'84 io sono di estrazione chimica quindi ero un tecnico che lavoravo in un'azienda di cosmetica ho lavorato fino all'età di 27 anni poi questa azienda purtroppo non andava benissimo e quindi mi sono inventato un lavoro e questo lavoro è quello che ancora faccio oggi ovviamente allora non avevo minimamente pensato quelle che potevano essere i risultati e le strade che potevo percorrere era più che altro una situazione che mi dava da sopravvivere e poi pian piano siamo cresciuti siamo cresciuti e quindi ho cominciato a presentare il prodotto a innovarlo a fare delle formule che hanno trovato una risposta importante sul mercato e poi per 20 anni mi sono messo in giro per il mondo ad andare a piantare delle piccole piantine un po' in tutti i paesi e ad oggi diciamo che vendiamo in 100 paesi diversi e poi in tutto il mondo in tutti i continenti allora Sanitalia che scorrono le immagini della fabbrica esatto per chi non conoscesse quei pochi che non conoscessero stiamo parlando di cere depilatorie giusto? questo è il core business principale sì cere depilatorie non è l'unico ma è quello quello che è cere depilatorie che allora era un trattamento non molto in cui non tutte le donne si sottoponevano e oggi invece ha preso una diffusione totale addirittura anche tanti uomini che si depilano oggi e quindi abbiamo preso questa onda positiva abbiamo realizzato dei prodotti lavorando costantemente sul prodotto e sulla qualità del prodotto perché anch'io sono dell'opinione che al di là del marketing al di là dei giochi finanziari è il prodotto quello che parla di noi quando arriva nelle mani del cliente quindi è lì che bisogna dare il massimo della qualità e il massimo della performance abbiamo lavorato bene e oggi grazie a Dio facciamo 30 tonnellate di prodotto al giorno 250.000 confezioni al giorno pronte per lo scaffale e quindi una diffusione molto molto dettagliata in tutto il mondo entrare in 100 paesi del mondo vuol dire entrare in parecchie culture diverse perché abbiamo detto già in origine non era una pratica diffusa immagino che comunque in ogni paese bisogna andare a scoprire quali sono proprio le filosofie di ogni paese per poter arrivare al dunque insomma sì indubbiamente ogni paese ogni cultura ha la sua abitudine e abbiamo dovuto cercare di capirla ogni volta adattando i nostri prodotti a quel tipo di esigenze e anche però tante volte portando e insegnando culture diverse ad abituarsi a prodotti già utilizzati in Europa e in America quindi c'è stato sia l'uno che l'altro uno scambio e alle volte anche noi abbiamo portato delle innovazioni che i mercati le hanno ben accettate e anzi sono diventate il punto di riferimento certo non è l'unica linea di prodotto questa voi trattate anche altre linee di prodotto il nostro core business al 90% è la cera depilatoria il prodotto per la depilazione e tutto quello che è attorno quindi strumenti per il riscaldamento per l'applicazione i tessuti e quanto altro poi nel corso degli anni abbiamo anche diversificato un po' perché la clientela era vasta e quindi da 5-6 anni abbiamo aperto la Xanitalia Pro che vuole essere invece una un'offerta di prodotti collaterali al settore dell'estetica della parruccheria e del wellness e quindi abbiamo aperto appunto questa logistica di distribuzione di prodotti che non sono fatti da noi ma realizzati da altre aziende per cui diciamo che a questo punto due domande su questo poi passiamo a un altro argomento allora due domande su questo tentazione di delocalizzare a un certo punto del lavoro circa 15 anni fa si erano prospettate delle possibilità di mercato importanti che necessitavano di investimenti strutturali per l'azienda e quindi in quel momento ho cercato di realizzare uno stabilimento sul nostro territorio e in quel momento ho trovato delle difficoltà perché insomma si trattava di costruire 40.000 metri e c'erano opinioni diverse sul territorio e quindi non abbiamo fatto niente abbiamo preso strade diverse abbiamo risolto in modo diverso ma siamo rimasti comunque collocati sul territorio pesarese con il senno del poi devo dire che tutto sommato è andata bene così perché questa opinione comune che poi la risultante è stato proprio il fatto che non si potesse fare lo stabilimento forse era quella giusta perché alle volte noi imprenditori pensiamo di avere la verità in mano noi stessi mentre più occhi più sensibilità riescono a dare una valutazione magari più completa e magari anche più equilibrata per cui orgogliosamente sul territorio orgogliosamente sul territorio anche senza stabilimento grande ci siamo in qualche modo organizzati e tutto è andato bene ugualmente bene la seconda è inevitabile l'impatto del covid visto che voi appunto siete su tutto il mondo ma il covid è in tutto il mondo per cui l'impatto del covid qual è stato? allora abbiamo visto spegnersi i vari stati uno alla volta e riaccendersi poi uno alla volta quindi nella realtà non abbiamo mai smesso di lavorare seppur un pochino sotto con un mercato meno effervescente però c'era sempre qualche paese aperto e quindi sinceramente abbiamo sempre lavorato siamo riusciti anche in questi anni a chiudere i bilanci con nessuna perdita forse con meno incrementi rispetto a quelli che normalmente eravamo abituati ma comunque non abbiamo avuto perdite di nessun tipo tutto perfetto per il passaggio generazionale allora io credo che nella storia di un imprenditore non si può dire finita fin tanto che lui che ha creato l'azienda che l'ha portata avanti l'ha fatta sviluppare non è finito fin tanto che lui stesso non riesce a dare una dimensione che va al di là proprio di lui stesso quindi dare una continuità è un aspetto molto delicato molto complicato perché tu ti sei costruito e cucito un vestito su misura sul tuo corpo sul tuo modo di essere sul tuo modo di pensare e questo vestito deve essere in qualche modo indossato da altri che poi devono dare una continuità devo dire che due figli bravissimi oltre che dei collaboratori bravissimi di cui dei quali sono molto orgoglioso salutiamo Sara e Filippo salutiamo Sara e Filippo ex animatrice di Peserville esatto ecco di qua qua siamo alla fiera a Hong Kong quindi siamo nel continente asiatico poi ne avevo portate anche altre Filippo è lì che è con dei clienti appunto poi facciamo fiere anche qua siamo in India in India poi siamo qua siamo in Arabia a Jedda e qui anche un mondo molto questo mia figlia Sara che anche lei lo stand forse eravamo a Bologna in questo caso ecco qui eravamo lo stand Cosmo per la Bologna le fiere purtroppo in questo momento si sono congelate stiamo tutti aspettando che riaprano per poter ricominciare il nostro trend di crescita e di proposta ai paesi io sono sicuro che in questo momento a caso qualcuno dice ma San Italia io però l'ho sentito anche per qualcos'altro l'ho sentito anche ma certo che l'avete sentito per qualcos'altro l'avete sentito per i celebri concerti San Italia e qui giriamo in qualche modo la pagina passiamo a un altro aspetto dell'imprenditore Franco Signoretti che quando esce dalla sua impresa e dai suoi stabilimenti si dedica all'arte è uno dei più grandi appassionati d'arte musica e non solo per cui io adesso pendo dalle sue labbra dunque quando tu lavori intensamente ti dedichi delle volte anche ad attività come proprio quelle del business che sono un po' aride sotto un certo punto di vista anche se entusiasmanti hai bisogno di riequilibrare te stesso con delle attività più umanistiche se vogliamo che ti fanno stare più tranquillo più lente più calme più piacevoli e quindi ho trovato questo abbinamento con l'orchestra Rossini dove devo dire ci sono delle persone dei professori bravissimi oltre al presidente Saul che si impegna tantissimo e abbiamo insieme man mano cercato di trovare una collaborazione attraverso questi concerti Xanitalia che sono iniziati mi sembra nel 2014 e che hanno trovato il loro spazio il loro successo del quale speriamo di riuscire a dare una continuità anche in questo periodo di pandemia anche se le difficoltà non sono poche per quel genere di spettacoli ma la forza proprio dell'orchestra Rossini è quella di non arrendersi di darsi da fare anche quando tutto sembra essere impossibile hanno fatto tantissime trasmissioni in streaming tantissimi concerti in streaming e quindi l'attività è continuata normalmente anche con tutte le difficoltà e quindi un plauso va sicuramente all'orchestra sull'orchestra e già comunque l'anno prima della pandemia c'era stato questo problema i concerti sanitari erano all'interno di Rocca Costanza Rocca Costanza ormai la possiamo non dico non voglio dire niente che porti sfortuna però insomma diciamo che la consideriamo molto difficile da recuperare a livello comunale Rocca Costanza era una location stupenda perfetta e anche molto suggestiva se vogliamo si adattava a quel tipo di attività finito quello abbiamo cercato di fare in piazza qualcosa e c'è stato un tentativo al Parco Miralfiore che è andato anche molto bene e sicuramente stiamo ragionando di dare continuità proprio al Parco Miralfiore magari con un taglio anche più giovane a questo tipo di organizzazione per attirare anche un pubblico se vogliamo più più giovane e poi c'è tutto l'aspetto personale del collezionista d'arte di quello che insomma ama circondarsi del bello sì diciamo che io ho cominciato a collezionare circa 35 anni fa il collezionismo è un'attività che ti dà tante soddisfazioni perché collezionismo vuol dire anche ricerca vuol dire anche viaggi vuol dire anche incontri vuol dire anche parlare con persone che si occupano e sono esperte in altre attività e in altre arti quindi io ho provato molta soddisfazione in quella direzione e poi il collezionismo è molto vasto perché io mi sono dato il mio tema il mio obiettivo era quello di cercare di riportare sul nostro territorio opere di pittori locali del 500 600 e anche 700 che per un motivo per l'altro è così un po' l'arte è destinata a andare in giro per il mondo ecco e riuscire a riportare sul proprio territorio questi documenti artistici e queste opere è motivo di soddisfazione quindi non stiamo parlando di artisti blasonati o importantissimi se vogliamo stiamo parlando di artisti bravi del nostro territorio e quindi che hanno secondo me questa bellezza che proprio ci appartiene e quindi ho cominciato a collezionare un po' alla volta un po' alla volta la collezione ha preso una sua dimensione che è ragguardevole ed è anche per me motivo di orgoglio insomma bellissimo vedere questo radicamento nel territorio ne abbiamo parlato per l'azienda ne abbiamo parlato per i concerti ne abbiamo parlato per questo recupero e naturalmente non possiamo non fare un accenno conclusivo a Palazzo Perticari al recupero conservativo di Palazzo Perticari Palazzo Perticari è un'opera che dura tanto tempo e in qualche modo mi devo scusare con i cittadini per il disturbo e il disagio che abbiamo provocato con questa lavorazione ma veramente è stato veramente tanto impegnativo se potete vedere magari ho portato delle fotografie com'era lo stato in cui il palazzo l'ho trovato io al momento dell'acquisizione era un palazzo ormai in abbandono da decine di anni questo era lo stato di degrado e pioveva dentro e questo è un po' quello che adesso è il recupero questo è della scala questa era una lanterna che sovrasta a scala principale che poi è stata ristrutturata e oggi si appare così e poi questo qui per esempio ci sono degli affreschi che erano stati completamente nascosti dall'imbiancatura vedete questo quadretto se vogliamo e tutto il bianco attorno era l'unica cosa che c'era salvata guardate cosa c'era sotto questo quadretto ecco se possiamo scorrere le immagini questa era tutta la costruzione che c'è e questo era il salotto e lo studiolo dei Perticari ed è una cosa meravigliosa con tutte le grottesche questo era un soffitto completamente invaso dall'acqua le travi erano veramente e questo è quello che abbiamo recuperato certo andando ancora avanti questo era un putto in una scultura un punto facendo parte della scultura che sta proprio all'esterno e questo è il suo recupero insomma questo era un soffitto di una stanza d'angolo che era completamente bianco verniciato con cinque mani vernici l'abbiamo riportato a forza di bisturi a questo livello qua e quindi abbiamo recuperato un po' tutte quelle che erano gli affreschi che sono circa 700 metri quadrati e quindi è stato veramente un lavoro lungo entusiasmante e ogni volta era una scoperta nuova che ci rallegrava insomma la domanda conclusiva in un minuto entrando in un palazzo come quello che abbiamo visto all'inizio fatiscente si capisce qui c'è da lavorare ti aspettavi questa mole di lavoro? dunque certamente mi aspettavo un'opera impegnativa e devo dire che siccome è una cosa che non viene fatta per una speculazione edilizia ma solamente per una ristrutturazione conservativa devo dire che ogni passaggio è stato per me un piacere perché è una scoperta un ritrovamento discutere con la sovraintendenza qui seguiva tu segue tutto la dottoressa guida di Ancona le istituzioni ti fanno un po' spavento perché tu immagini che ti impongono dalle scelte invece in questo caso io sono stato anche preso per mano e con non l'autorità ma l'autorevolezza che hanno questi esperti della sovraintendenza sono stato anche facilitato nel percorso di recupero perché insomma sono stati molto vicini devo dire un grazie quindi anche a loro agli architetti agli ingegneri abbiamo fatto un consolidamento sismico terribile proprio una cosa bellissima è stata ripresa con tutti gli acciai il titanio e quindi è diventata una struttura antica ma nello stesso tempo con l'efficienza delle esigenze moderne una meraviglia allora abbiamo concluso il nostro tempo e ci auguriamo di essere riusciti a far conoscere ai nostri telespettatori in maniera un po' più approfondita questo importante imprenditore del territorio che si rivela essere non solo un imprenditore ma un grande innamorato del nostro territorio beh ho bisogno di entusiasmi continuamente se no non riesco a vivere bene quindi ho bisogno di darmi delle motivazioni e continuo e questo è il mio modo di essere del quale sono anche contento grazie per essere stato con noi non mancheranno occasioni per approfondire per venire anche a scoprire ulteriormente tutte queste meraviglie di cui abbiamo fatto cenno e abbiamo solo parlato voi continuate a seguire naturalmente tutto quello che attraverso Xan Italia chi interagisce con lui dall'orchestra Rossini e da tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti riesce a proporre e a regalare alla nostra città naturalmente non mancate anche di seguire quello che sono i prodotti dell'azienda che quello è sempre molto importante grazie ancora grazie a tutti voi grazie a voi allora adesso noi andiamo in musica andiamo in musica con il video La forza che ho di Clarissa Vicky ma prima andiamo con i risultati del sondaggio il 48% dichiara di essere scarmanti con il 52% dichiara di no per cui siamo in bilico e potete continuare ancora a votare tra le persone che ci hanno seguito che ci seguono c'è Barbara Milena Cristian Emanuele e Emanuela che ringraziamo ringraziamo Tiziano Donzelli che oggi l'avrete notato ha rinnovato con l'aiuto e con la collaborazione di Allegra il nostro studio portandoci delle nuove opere delle sue nuove produzioni sulle quali ci soffermeremo sicuramente in una delle prossime puntate perché adesso lasciamo spazio alla musica e subito dopo avremo il terzo ospite della mattinata Francesco Gazzè a fra un po' grazie a tutti a chi sei persi nel vuoto e mai dentro ai miei quello che ho lo devo anche a lui ma siamo ormai due stranei anche se so che dei giorni in poi io gli somiglio sempre di più mi fa male e tu ho il sangue che ho ma non so odiare questa è la forza che ho perché so amare amo questa vita come non fai tu è triste da dire ma è proprio così la mia salvezza è lontana da qui dove non c'è l'aria di te e si può respirare non è colpa tua è solo utopia che all'improvviso ti porta via e mi fa male e mi fa male è il tuo sangue che ho ma non so odiare questa è la forza che ho perché so amare amo questa vita come non fai tu e ogni volta ci riprovo e tu e un ricontro non ti accorgi che non riesci più a piegarvi è come vedi resta in piedi è il tuo sangue che ho ma non so odiare questa è la forza che ho perché so amare e amo questa vita come non fai tu e e e e e e so amare anche te in fondo anche te è oh 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 chính oh oh clarissa vicky l'avete vista era la protagonista di questo video pesarese anche lei siamo nell'ambito di dare spazio a realtà locali lo facciamo con Francesco Gazzè ciao Francesco allora Francesco Gazzè come dico sempre quando mi diverto con i componenti della mia famiglia, se il cognome vi mette qualche dubbio, cioè al di sopra di ogni sospetto, è proprio lui cioè il cognome è quello, è quello dei Gazzè che tutta Italia conosce insomma esatto Max forse si è spento il microfono riproviamo sì, adesso va bene regia? Bene dicevamo allora che il cognome è quello insomma, è quello di Max di Max, di Max, di mio fratello Max, esatto, è il cognome di famiglia non è un, come potete dire, un nome d'arte no, no, no non è né un caso né un nome d'arte, è proprio tuo fratello ci chiamiamo così esatto, e tu sei qui, oltre che perché noi ci conosciamo da una vita e era necessario comunque assolutamente vedersi e sentirsi, perché sei tra l'altro come scrittore, come autore, eccetera, sei comunque l'autore delle canzoni, l'autore dei testi delle canzoni di Max sì, di gran parte delle canzoni anche dell'ultima, quella di Sanremo anche quella di Sanremo quella che ha fatto tutte queste polemiche a Sanremo sì, diciamo che no, ma più che polemiche è stata interpretata in molti casi, insomma non come doveva essere interpretata perché è stata scritta molto prima del covid un anno prima e qualcuno insomma ha visto una un'analogia tra quello che era il testo della canzone e quello che sta succedendo ma il titolo del farmacista era nato insomma molto tempo fa mi arrivate a Sanremo in pieno covid con una canzone lo so, lo so con Max vestito da Leonardo Vinci insomma è stata scritta in tempi non sospetti e poi dopo il caso ha voluto però è una canzone semplicemente ecco che parla di un di un folle che cerca di cambiare i difetti della sua donna con le pozioni magiche quindi è veramente tanto è vero che poi gli mettono la camicia di forza nella canzone infatti perché è una follia cercare di cambiare le persone è comunque una follia no? sempre e quindi poi dopo ovviamente questa questo fatto contingente del covid ha fatto sì che qualche marinteso è venuto fuori insomma e poi è un po' quello che sogniamo tutti almeno quello che non dovremmo ma che finiamo per pensare cioè per qualunque problema la pastichina è risolviamo invece il covid ci ha dimostrato che non è così perché non c'è niente di pronto all'uso e soprattutto non è un bel modo di affrontare la vita pensare di risolvere tutti i problemi con la pastichina giunta no anche perché i difetti delle persone non sono problemi sono la cosa più bella che hanno le persone i pochi difetti e questo va esteso un po' a tutto cioè anche quando ti fa male un dito la pastichina insomma si può anche evitare si può aspettare e capire magari perché ti fa male questo dito sì sì esatto e quindi insomma è una canzone che aveva tutt'altro argomento ecco poi dopo ovviamente dopo le radio però hanno cominciato a mandarla sì poi quando hanno cominciato anche perché il testo è molto difficile perché le strofe sono tutti dei principi chimici veri e reali quindi anche se incastrati in qualche modo anche l'orchestra l'avete chiamata com'è che l'avete chiamata? Trifluoperazina per cui insomma eravate un po' impegnati per complicarvi la vita sì sì ma tanto quello lo facciamo sempre con Max esatto la trio Trifluoperazina Monster Band sì sì e l'altro ieri no che giorno è oggi no quattro giorni fa è uscito il l'album l'album è uscito l'album sì sì la matematica dei rami la matematica dei rami anche qui con un riferimento perché i rami tra loro interagiscono di che riferimento è di Leonardo da Vinci sì sì è una teoria di Leonardo da Vinci che poi è stata ripresa da Max e comunque è il diciamo estratto il titolo da una delle canzoni dell'album che è Figlia l'ultima traccia dove appunto è citato la matematica dei rami comunque adesso c'è una intenzione a complicare la vita a chi vi segue ce l'avete no ma non lo facciamo apposto non lo fate apposto no non lo facciamo apposto non puoi insomma no 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 i titoli le cose le leggende che si intrecchiano insomma per diventare un fan di Max e di conseguenza di Francesco tocca studiare sì sì non è una cosa che uno può fare così superficialmente no no non è tanto per fare l'aggancio musica leggerissima insomma no 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 è comunque musica leggera però ci divertiamo insomma anche a trovare degli aspetti particolari insomma questo ormai sono 25 anni certo che lo facciamo insieme quindi certo tu naturalmente io lo dico ai telespettatori perché io lo so già scrivi anche racconti scrivi anche altre cose però diciamo che la parte quella che ti rende personaggio pubblico è questa dell'essere autore di queste canzoni di canzoni sei l'autore di tutte le canzoni di Max o Max ha fatto anche canzoni? quasi tutte quasi tutte diciamo nel corso degli anni ci sono state anche delle altre collaborazioni ovviamente ma insomma la maggior parte delle volte la collaborazione fraterna è quella che ha portato avanti il progetto diciamo ultimamente negli ultimi anni ormai direi questo sodalizio con la musica realizzata da Francesco De Benediti che tra l'altro verrà ospite in trasmissione nelle prossime settimane e naturalmente come a tutti quelli che compongono parole in abbinamento con altri che compongono musica la domanda è inevitabile scrivi prima te le parole e lui dopo va dietro con la musica oppure lui fa la musica le chiede anche a lui dopo e lui fa la musica no no succede di tutto perché ovviamente ci sono ci sono vari modi di affrontare poi la scrittura però nel caso di Francesco spesso succede che lui abbozza una musica e poi dopo io magari metto anche il testo e poi mio fratello insieme a lui elaborano la musica e viene fuori poi la canzone ma è successo anche che ho scritto un testo ed è stato poi musicato da Max così come da altre persone quindi dipende anche dall'approccio che uno ha verso la canzone e che tipo di canzone deve venire fuori questa tua abilità hai pensato di trasferirla anche a qualche allievo stai organizzando hai organizzato realizzi dei corsi anche si puoi insegnare a scrivere un testo non sono dei corsi infatti non si insegna questo qui è uno scambio di esperienze che abbiamo spesso con i ragazzi che vogliono magari che sono curiosi di sapere come si affrontano certe problematiche certe situazioni e quindi è uno scambio di esperienze dove ovviamente incontro loro loro dicono come fanno e io dico a loro come faccio io e quindi è veramente una cosa molto interessante perché anch'io imparo tantissimo certo 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 qualche settimana fa in un'intervista con Samuele Bersani in occasione della mancanza di Raul Casadei lui ha confessato che Casadei aveva inserito in una canzone celeberrima che è Ciao Mare una parola che a lui gli sta antipatiche non avrebbe mai voglia e non ha mai voluto metterla che è Gabbiano tu hai qualche parola che non proprio neanche per sogno non mettono in una canzone nemmeno sotto tortura? no ce n'è una che poi ci accomuna con mio fratello Italia Italia lui mi ricordo qualche anno fa dicono io le canzoni con dentro Italia vi prego non ce la faccio e invece ultimamente tanti la mettono sì sì però questo è stato così mentre eravamo lì a lavorare così è venuta fuori questa cosa e mi ricordo i capovori assoluti sì sì che quelli della scelina insomma dei Gregori no certo però insomma no 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 ma a parte è bella questa cosa qua dice no questa questa che mi rimane alla memoria mi è rimasta questa cosa che mi ha detto il fratello cattolica non ha mai voluto mettere Gabbiani perché gli sembrava Ruffiano il Gabbiano non funziona allora la Magical Mystery Band invece composta da Daniele Silvestri Fabio Rondanini Gabriele Lazzarotti Duilio Gagliotto li leggo Daniele Fiaschi e Daniele Tortola detto il Mafio è la band che accompagna nel disco appunto in uscita appena uscito accompagna Max sì è stato prodotto da loro era ben personaggio ed è una squadra meravigliosa di musicisti veramente ad altissimo livello da farci live da farci live ovviamente è un disco tra l'altro sì perché è un disco tra l'altro suonato praticamente come se fosse un live per cui a questo punto Sanremo è fatto il disco è uscito ci si prepara ai live con che prospettive? le prospettive ovviamente insomma sono di grande speranza perché possa ripartire il più presto possibile tutto quanto e ovviamente poi con quello che ha sempre caratterizzato Max è quello quindi di andare a proporre le canzoni così come sono state fatte nell'album in modo però però ovviamente molto fruibile e soprattutto più più come dire diciamo più coinvolgente coinvolgente ma sì sì ma ma ovviamente dopo tutti questi anni ha un significato in più perché lui è stato uno dei primi che ha fatto i concerti subito dopo il covid all'auditorium con le distanze e quindi cercando di dimostrare che si poteva fare un qualche cosa di sicuro quindi anche diciamo attualizzabile rispetto a quello che era successo e poi questo esempio purtroppo è rimasto un po' inascolta come è rimasto lì adesso questa cosa poi dopo cambiamo pagina come è rimasta lì questa cosa del concerto a Barcellona di questo gruppo a fine marzo che ha suonato al Palau de Saint Jordi credo si pronunci così non lo so con 5.000 persone tamponate eccetera eccetera però è sembrato cioè non è che ha fatto scuola è rimasto anche quello un po' isolato un episodio isolato e questo è stato un peccato perché comunque il settore della musica è stato veramente molto penalizzato non solo quello della musica ma dello spettacolo in generale e forse si poteva fare qualcosa di più per cercare comunque di far lavorare anche se a mezzo servizio comunque con posti contingentati sia teatri che locali dove si poteva fare andiamo a vedere ho sentito che qualcosa si muove nell'ambito dello sport lo sport fa un po' da capofila si porta dietro qualcos'altro vediamo insomma e ce l'auguriamo tutti perché abbiamo tutti voglia tantissimo di sentire di partecipare a concerti dal vivo che sono io lo dico e so che mi creo delle antipatie cioè a me personalmente a me è l'unica roba che mi manca veramente tanto i concerti dal vivo di tutta la roba che potevi dire a te sei proprio scemo è un po' sì cioè l'unica cosa che mi manca veramente sono i concerti dal vivo beh non solo a te insomma manca anche uno che ovviamente lo immagino lo immagino allora voltiamo pagina come si dice in tv voltiamo pagina e adesso ci occupiamo di tutt'altro ci occupiamo di una cosa che si chiama city tennis uno sport ufficiale codificato regolamentato registrato al non so se c'è un registro mondiale degli sport o non ho idea di come funzioni e che hai inventato tu insieme tra l'altro a Davide sì 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 è stato inventato cinque anni fa da una mia idea che poi dopo con Davide abbiamo sviluppato in un anno di test stiamo vedendo le immagini sì queste sono alcune immagini di qualche anno fa ovviamente poi dopo un anno abbiamo cercato di farlo sviluppare insomma nel territorio è stato riconosciuto poi come disciplina sportiva da ASI questo quattro anni fa e adesso abbiamo una collaborazione invece con CSI che sta continuando a promuovere ci ha parlato tra l'altro il Presidente che è venuto perché abbiamo aggiunto una collaborazione con loro e lo sport adesso diciamo ha 300 praticanti attivi e stiamo nel territorio di Pesaro quindi Fano Lucrezia e Orciano di Pesaro e adesso il mio obiettivo è quello di portarlo a livello nazionale abbiamo già avuto dei contatti con Roma ci saranno due circoli di Roma che partiranno Davide di spalle con la racchetta è ancora campione del mondo è ancora il numero uno ancora il più forte di tutti e quindi ovviamente questa è un'attività che sto portando avanti ormai da qualche anno e che mi sta dando tante soddisfazioni e spero ecco questo è mio fratello con la racchetta in mano dopo una sconfitta amara per lui è certo è giusto diciamo per chi non lo conosce esattamente cioè esattamente in linea di massima com'è il gioco cioè si chiama city tennis per cui unisce il discorso di città sì il concetto è quello di city car quindi tennis in piccolo tennis fruibile e ovviamente anche a livello di sia a livello di spazi che a livello di costi di allestimenti e si gioca in un campo 14x7 con la rete alta 1,30 rispetto al tennis che invece è? è 1,07 anzi 91 al centro questo è 1,30 al centro e poi con racchettine piccole per i bambini quelle del padel ma piccoline quelle da 40 cm e le palline quelle depressurizzate del 75% ah e quindi è molto molto semplice ma anche molto molto divertente gli scambi durano di più rispetto a quelli del tennis molto bene oce però io non ci capisco molto ma la palla essendo morbida diciamo permette anche degli scambi lunghi e spettacolari e quindi ed è uno sport accessibile a tutti perché la tecnica è quella del tennis ma non c'è il servizio è diverso dal padel ed è diverso anche dal tennis e quindi adesso io lo sto facendo giocare e chiunque entra in campo poi mi dice voi avete appunto questi spazi che sono già attrezzati a Lucrezia a Orciano qui mi ero segnato anche Baratov sì allora la Baratov abbiamo fatto una proposta abbiamo fatto una proposta qualche settimana fa e adesso siamo in contatto con il consiglio d'amministrazione per capire se possiamo entrare anche lì al circolo della Baratov il circolo Baratov ricordiamo che a Pesaro è un circolo di tennis storico e soprattutto ha ospitato anche la Coppa Davis per cui è famoso in tutto il mondo a quel punto esatto entrare con uno sport come City Tennis dentro il circolo tennis più blasonato della città per noi sarebbe un onore e ovviamente poi abbiamo parlato già con due referenti insomma erano incuriositi adesso stiamo cercando di portare a termine l'operazione tu provieni ovviamente dal tennis eri un classificato io gioco a tennis da quando sono bambino è stato anche classificato sono stato classificato e quindi è stata la mia passione prima della scrittura prima della musica c'era quella dello sport quindi adesso sono tornato un po' a casa con questa questa è una cosa che non so Davide di cui parliamo sempre e poi mio nipote Davide Pagnini cantautore di cui ogni tanto proponiamo qualche video questa non la so cioè voi quando vi siete conosciuti e vi siete conosciuti per la musica perché mi ricordo che te l'ho presentato io quanto tempo dopo c'è stata la scoperta di questo fatto del tennis ma dopo qualche anno sono stati tre anni per un po' si è andato avanti così poi in un certo punto dice sai io gioco a tennis anch'io gioco a tennis ma io quando l'ho chiamato per fare i test di questo nuovo sport lui mi ha preso per folle tanto sì sì non voleva pensava che scherzassi e poi invece gli ha detto guarda è una cosa seria ci vediamo lì alla palestra mazza dove proviamo a fare i primi test e lui a quel punto non so perché ma poi ha detto di sì e quindi e poi dopo è iniziato tutto da lì lui che è mancino chiaramente fa di questa cosa ha una sua forza e non è facile allora domanda conclusiva te devi sapere che questa trasmissione è la trasmissione delle anteprime delle anticipazioni e chi viene qua per qualche motivo ha qualcosa da raccontare prima che agli altri e ce lo anticipa io qui mi sono preso un punto Lido Verde Sport Village sì ce lo puoi anticipare oppure finisce lì sì sì è un circolo che è nato tre anni fa prima era in gestione a Sportland che è un'associazione molto importante nella zona per lo sport e adesso da qualche mese abbiamo deciso di entrare nella gestione del Lido Verde Sport Village a Fano a Baia Metauro con loro e quindi ho costituito un ASD City Tennis per questo a questo scopo e partiamo da maggio per questa nuova avventura e ci saranno due campi di padel tre campi da City Tennis e quattro campi da Beach Volley e Beach Tennis perfetto lo possiamo dare per acquisita per certa per cui seguiremo è ufficiale è ufficiale seguiremo tutto quello che vi inventerete come avete visto allora con Francesco Gazzè due ospiti al prezzo di uno perché abbiamo parlato della musica ad altissimi livelli Sanremo ed intorni parliamo dello sport ad altissimi livelli insomma con Francesco non si finisce mai di stupirsi grazie Paolo grazie a te per essere venuto a trovarmi e per avere concluso questa puntata insieme agli altri ospiti della giornata che sono stati Franco Signoretti Xanitalia Roberto Bartolini ideatore dell'assessment grafologico e ci ha dato diverse dimostrazioni di cos'è questa arte della grafologia ancora grazie a Francesco ci ho altro da aggiungere non ho altro da aggiungere se non invitarvi a partecipare come sempre a seguire come sempre le prossime puntate di Casa Rossini prossima diretta venerdì con tanti altri ospiti interessanti come del resto stiamo facendo sempre dall'inizio da novembre grazie ancora a tutti restate sempre con i programmi di Rossini TV grazie Francesco grazie a te grazie a te